Ciao a tutti ragazzi sono Joseph15 e ben ritrovati nel canale oggi vi ricordate che un giorno nel mio canale avevamo fatto anche il puzzle di Frozen poi non abbiamo fatto più nessun puzzle ma oggi faremo questo puzzle di pan barbiere il pasticcere allora tiriamo prima tutto fuori dalla scatola metto un attimo pausa e ci rivediamo subito dopo ok bambini abbiamo tirato fuori tutti i pezzi abbiamo messo pausa ora abbiamo messo place allora iniziamo a mettere il primo pezzo prima di tutto mettiamo questo pezzo di Wilk vedete Wilk mettiamolo qui poi dovremmo mettere quest'altro pezzo di Wilk che andrebbe sicuramente qua allora ora metto un attimo pausa e vado a prendere il prossimo pezzo ok bambini ho trovato il prossimo pezzo che sarebbe un altro pezzo di Wilk che va inserito diciamo qui dovrebbe andarci ma prima dovremmo trovare un altro pezzo per inserirlo ok bambini ho trovato il prossimo pezzo che sarebbe lo stesso di Wilk che va inserito qua vedete ok bambini ho trovato il prossimo pezzo che va inserito qui è un pezzo di Wilk lo stesso poi l'ho trovato anche quest'altro e anche questo e vedete che qua sta la scritta Wilk allora ora troviamo il prossimo pezzo ok bambini ho trovato il prossimo pezzo che va inserito qui vedete la mano di Wilk è la scala poi qui sopra dopo la scala ci sarà Pan Barbiere allora vado a trovare il prossimo pezzo ok bambini ho trovato il prossimo pezzo che va inserito forse qui vabbè qui in mezzo ci dovrebbe essere un altro pezzo lo vado subito a trovare ok bambini ho trovato il prossimo pezzo che è lo stesso di Wilk che va inserito qui vedete vedete un pezzo di cartone di Wilk vabbè bambini ora lo metto per bene nel frattempo che lo metto per bene vado già a trovare il prossimo pezzo ok bambini ho trovato il prossimo pezzo vedete di Wilk che va inserito qui vedete sta già venendo un capolavoro allora prendiamo l'altro pezzo che ci serve ok bambini ho trovato il prossimo pezzo che va inserito diciamo dovrebbe andarci da qualche parte qui per esempio ok ora vado a trovare il po oh questo invece quest'altro pezzo no non va qui vabbè però comunque vado a trovare il prossimo pezzo ok bambini ho trovato i prossimi due pezzi che sono di pan barbiere e che vanno inseriti qui allora mettiamoli qui mettiamo questa tazza di tè e poi formiamo pan barbiere ok bambini abbiamo quasi formato pan barbiere è ok ci serve però un altro pezzo ok bambini ho trovato il prossimo pezzo pezzo della crosta di pan barbiere che va inserito qui vedete 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 è ok scusate bambini ok ora che l'ho inserito troviamo il prossimo pezzo ok bambini ho trovato il prossimo pezzo di pan barbiere che va inserito qui vedete la camicia di pan barbiere la cravatta anche le tasche vabbè ora vado a prendere il prossimo pezzo ok bambini ho trovato il prossimo pezzo di pan barbiere ok bambini ho trovato il prossimo pezzo che va inserito qui vicino alla scala non di pan barbiere ok ora vado a prendere il prossimo ok bambini ho trovato il prossimo pezzo che va inserito qui vedete missica già sta venendo un capolavoro guardate già il pan barbiere più o meno si sono formato ora dovremmo formare cioco la principessa salsicce la principessa macarone salsiccia ok vado a prendere il prossimo pezzo ok bambini ho trovato il prossimo pezzo pezzo che va inserito qui vedete questo inserito ora vado a prendere il prossimo pezzo ok bambini ho trovato il prossimo pezzo di questa di macarone che va inserito qui aspetta più sopra qui ora vado a prendere il prossimo pezzo ok bambini ho trovato il prossimo pezzo di piedi di macarone che va inserito qui poi il prossimo pezzo aspetta lo inserisco bene poi ho trovato nel frattempo anche il prossimo pezzo che va qui ok bambini ho trovato il prossimo pezzo che va inserito qui però ancora ci manca la faccia però ancora la vado a trovare ok bambini ho trovato il prossimo pezzo ma questa volta non è di macarone questa volta è di wilk vedete wilk deve andare qui allora aspettate che lo inserisco per bene aspetta eccolo l'ho inserito per bene e ora vado a prendere il prossimo pezzo ok bambini ho trovato il prossimo pezzo di pan barbiere che va inserito qui vedete pan barbiere ora vado a prendere il prossimo pezzo ok bambini abbiamo trovato il prossimo pezzo di macarone di nuovo che va inserito qui vedete ora però ancora ci manca la faccia di macarone ok bambini ho trovato il prossimo pezzo della finestra andiamolo a inserire aspettate bambini mettiamolo inseriamolo aspetta che siamo arrivati sopra non ci riesco metto un attimo pausa ok bambini l'ho inserito per bene ora troviamo il prossimo pezzo ok ok bambini ho trovato il prossimo pezzo che è di cioco non l'avevamo ancora iniziata vedete di cioco aspettate che no vabbè se no si riesce a staccare metto un attimo pausa aspettate ok bambini ho trovato il prossimo pezzo che va inserito qui ok bambini ho trovato il prossimo pezzo che va inserito qui vedete ok ora vado a trovare il prossimo pezzo bambini ho trovato il prossimo pezzo che sarebbe di salsiccia vedete qui abbiamo quasi finito il puzzle ma l'unica cosa che ci manca ancora di qua della parte di sopra ci manca tanto ma della parte di sotto solo una cosa ci manca la faccia di mancherò è davvero inquietante però vabbè ok bambini ho trovato il prossimo pezzo che va inserito qui e poi oh e già che sono ho già trovato già il prossimo pezzo che sarebbe quest'altro invece aspettate aspettate ora lo metto ok l'ho inserito ma nel frattempo ho trovato anche un altro pezzo che va inserito qui e ora vado a trovare la faccia di lei ok bambini ho trovato il prossimo pezzo che va sicuramente qui ovviamente è un occhio di lei aspettate ecco qua l'ho inserito ok bambini ho trovato il prossimo pezzo di qua che va inserito qui nel cappello nel cappello di lei ok bambini ho inserito in quel pezzo proprio bene vi siete accorti che ho messo un po' di luce perché non si vedeva proprio niente ora andiamo a trovare il prossimo pezzo ok bambini abbiamo trovato il prossimo pezzo che sarebbero i piedi che sarebbero i piedi di come si dice di della principessa ok bambini ho trovato il prossimo pezzo che è della porta che va inserito qui ok ok bambini ho trovato il prossimo pezzo che è della crosta di pan barbiere vedete ok l'ho messo ora vado a trovare il prossimo pezzo ok bambini ho trovato il prossimo pezzo che va inserito qui guardate aspetto nel contrario ok ok bambini ho trovato il prossimo pezzo che va inserito qui vedete vicino alla porta ok bambini ho trovato il prossimo pezzo che va inserito qui vedete aspettate ecco qua l'ho inserito ok bambini ho trovato il prossimo pezzo che va inserito qui aspettate ecco qua ok bambini ho trovato il prossimo pezzo che va inserito qui vedete vedete ah ok aspettate ed ecco questo pezzo era di cioco ok bambini ho trovato il prossimo pezzo che va inserito qui guardate ok e ok ho inserito ora vado a trovare il prossimo pezzo ok bambini ho trovato il prossimo pezzo che va inserito vedete qui il naso e gli occhi di pan barbiere ok ok bambini ho trovato il prossimo pezzo che va inserito invece qui vicino ai capelli di cioco ok bambini ho trovato il prossimo pezzo che va inserito vedete qui vicino alla finestra di pan barbiere ok ok bambini ho trovato il prossimo pezzo che va inserito vedete qui oh già si sta collegando bambini ci mancano però ancora altri pezzi ok bambini ho trovato il prossimo pezzo che va inserito vedete qui vicino a come si dice alla finestra aspettate ah non è qui ho sbagliato bambini è qui ho sbagliato ok bambini finalmente ma proprio finalmente sono riuscito a sono riuscito a trovare la faccia di macarone era da tanto tempo che la cercavo e ora finalmente l'ho trovata ok bambini ho trovato il prossimo pezzo che va inserito qui vedete vicino alla finestra di pan barbiere ok bambini ho trovato il prossimo pezzo che va inserito vedete un attimo un po' più sopra qui va inserito qui qui ok bambini ho trovato il prossimo pezzo che va inserito vedete qui qui vicino alla finestra lo stasto ora ora vado a trovare il prossimo pezzo ok bambini ho trovato il prossimo pezzo che va inserito decisamente qui ok ora vado a trovare il diciamo il prossimo pezzo ok bambini ho trovato il prossimo pezzo che va inserito qui vedete a quest'altra finestra ok bambini ho trovato il prossimo pezzo che va inserito decisamente qui ora vado a trovare il prossimo pezzo ok bambini ho trovato il prossimo pezzo che va inserito qui aspetta vedete troppo in alto ok ora ci mancano soltanto due pezzi mancano solo no ho sbagliato tre pezzi non due ok bambini ho trovato il terzo ultimo pezzo che va inserito qui ora ce ne mancano due ok bambini ho trovato il penultimo pezzo che va inserito qui qui ah ora prendo l'ultimo pezzo non non trovo il primo pezzo perché ormai ne rimane solo questo e devo per forza metterlo aspettate ok bambini ho messo l'altro pezzo e comunque ragazzi per oggi è tutto e abbiamo fatto il puzzle di pan barbiere se vi è piaciuto il video mettete un commento un mi piace e iscrivetevi con altre iscrizioni al mio canale perché ho tanti iscritti ma aggiungete altre iscrizioni così nel prossimo video vi arriverà la notifica e la attiverete ciao 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 ciao